situazione diciamo internazionale considero cosa molto importante e quindi vi faccio la mia introduzione sulla legge di bilancio e poi lascio la parola ai due vicepremier al ministro dell'economia al viceministro che chiaramente rimangono qui anche per rispondere alle vostre domande. Dicevo abbiamo varato la manovra di bilancio per il 2024, il Consiglio dei Ministri lo ha fatto a tempo di record come vedete perché il Consiglio dei Ministri era convocato alle 9.30 e cominciato poco dopo e quindi la legge di bilancio è stata approvata in poco più di un'ora a dimostrazione diciamo dell'unità di vedute del Consiglio dei Ministri e della maggioranza che sostiene il governo. è una manovra per complessivi 24 miliardi poco meno di 24 miliardi che sono il frutto per come sapete quasi 16 miliardi di extragettito e per il resto di tagli di spese è una manovra che io considero molto seria, molto realistica, una manovra che non disperde risorse ma le concentra su alcune grandi priorità continuando a seguire una visione che questo governo ha messo in campo dall'inizio del suo mandato. Nonostante un quadro che chiaramente è abbastanza complesso per intenderci noi nel 2024 avremo circa 13 miliardi di euro di maggiori interessi sul debito da pagare in forza delle decisioni assunte dalla Banca Centrale Europea che circa 20 miliardi di euro di super bonus, l'aumento dei tassi di interesse e il super bonus fanno complessivamente più della manovra di bilancio. Ciò nonostante noi riusciamo a confermare i provvedimenti che avevamo varato lo scorso anno e andiamo avanti lavorando sostanzialmente sulle stesse priorità. Quali sono queste priorità? Quelle che avevamo annunciato vengono confermate. La prima è difendere il potere d'acquisto delle famiglie ovvero più soldi in busta paga per i cittadini con redditi medio-bassi. Lo facciamo confermando per l'intero 2024 il taglio del cuneo contributivo che avevamo disposto lo scorso maggio che vi ricordo essere di sei punti percentuali per chi ha redditi fino a 35 mila euro, di sette punti percentuali per chi ha redditi fino a 25 mila euro. È un aumento in busta paga che diciamo mediamente corrisponde a circa 100 euro al mese che coinvolge una platea di circa 14 milioni di cittadini. È il provvedimento più corposo perché come sapete Cuba circa 10 miliardi per l'intero anno. A questo aggiungiamo l'anticipo della riforma dell'IRPEF che avevamo previsto nella delega fiscale cominciando anche qui dagli scaglioni più bassi. Di fatto eliminiamo il secondo scaglione e quindi estendiamo il primo scaglione, quello che prevede una tassazione al 23% e che oggi è previsto per i redditi fino a 15 mila euro fino a tutto il secondo scaglione. Quindi si paga il 23% fino a 28 mila euro di reddito. È una misura che chiaramente serve a rafforzare il taglio del cuneo che vale ulteriori 4 miliardi e prevede ovviamente un ulteriore beneficio. Con una precisazione il beneficio entra in vigore per tutti cioè è come dicevo un anticipo di una riforma fiscale che complessivamente intendiamo portare avanti ma per ora noi lo sterilizziamo per i redditi più alti. Cioè per i redditi che rientrano nella quarta aliquota al di sopra dei 50 mila euro noi sterilizziamo il beneficio con una franchigia sulle detrazioni fiscali. Se non vado errada Maurizio poi se sbaglio mi correggi. Quindi è una misura che vedranno in busta paga solamente i redditi medio bassi a conferma del fatto che le poche risorse delle quali disponiamo le vogliamo concentrare su chi ha maggiormente bisogno. Ovviamente la misura come dicevo si applica anche ai pensionati ci consente di continuare il nostro lavoro di sostegno alle pensioni più basse. Si aggiunge a questa misura sulle pensioni particolarmente la rivalutazione delle pensioni in rapporto all'inflazione. Altra misura che cuba complessivamente circa 14 miliardi di euro sulla rivalutazione delle pensioni in rapporto al dato inflazionistico. Noi abbiamo lavorato più o meno come avevamo fatto lo scorso anno rivalutiamo al 100% le pensioni fino a 4 volte il minimo al 90% quelle da 4 a 5 volte il minimo e poi a scendere man mano che ovviamente aumenta l'importo della pensione. Viene confermata la super rivalutazione delle pensioni minime per gli over 75 anni. Sempre sulle pensioni poi questo diciamo magari entra più nel merito il ministro economia interveniamo su alcune situazioni di squilibrio e vogliamo dare un segnale abbiamo cominciato a dare un segnale sulle pensioni delle quali diciamo così non si è mai occupato nessuno. Cioè avendo sempre i governi dato la priorità ovviamente a chi era in pensione noi abbiamo continuato a lavorare soprattutto su chi era prevalentemente nel sistema retributivo ritenendo che chi è completamente nel contributivo cioè le future pensioni potesse essere un problema da rinviare del quale poi qualcuno si sarebbe occupato. Il problema è che questo sta creando e crea diciamo degli squilibri e delle disparità che sono obiettivamente dal nostro punto di vista sbagliate per cui ad esempio una misura che abbiamo introdotto è quella di eliminare il vincolo che prevede che chi è nel contributivo possa andare in pensione una volta raggiunta l'età prevista solo se ha raggiunto un importo pensionistico pari a 1,5 volte la pensione sociale. Cioè se l'importo di una pensione che è frutto di contributi e che quindi è del pensionato è inferiore a 1,5 volte la pensione sociale io non ho diritto più ad andare in pensione quando l'età me lo consente vado in pensione oltre i 70 anni. Secondo noi questa misura non è una misura corretta e abbiamo rimosso questo vincolo. Aggiungo sempre sul tema delle pensioni che Ape Sociale e Pensione Donna vengono sostituiti da un unico fondo per la flessibilità in uscita che consente di andare in pensione a 63 anni con 36 anni di contributi per i caregiver, per i disoccupati, per i lavori gravosi, per i disabili e con 35 anni come prevedeva Opzione Donna per le donne. Sempre rimanendo in tema di sostegno ai salari un'altra misura che cuba una somma significativa di questa legge di bilancio riguarda il tema degli aumenti contrattuali del pubblico impiego. Ci sono complessivamente oltre 7 miliardi di euro a disposizione del Ministro Zangrillo particolarmente per gli aumenti contrattuali. Oltre 2 miliardi di euro poi ci torno riguardano il tema della sanità. 5 miliardi di euro sono per i rimanenti settori ma io voglio dire con chiarezza e concordiamo, tutto il Governo concorda su questo, che per noi la priorità quest'anno è soprattutto il rinnovo del contratto del comparto sicurezza. Io penso che non si possa più accettare una realtà nella quale un poliziotto prende di straordinario poco più di 6 euro l'ora che è meno di quanto prenda un collaboratore domestico e penso che su questo bisogna intervenire. Quindi la priorità per noi è il rinnovo del comparto difesa e sicurezza ma come dicevo oltre a questi 5 miliardi ce ne sono 2,3 se non vado errata sul tema della sanità. Ora, questione sanità. Sulla sanità ci sono 3 miliardi in più rispetto a quanto previsto. Questi 3 miliardi sono destinati tutti a un'unica priorità che per noi è l'abbattimento delle liste d'attesa. Ed è una priorità che intendiamo perseguire con due misure. Il rinnovo anche qui del contratto del comparto sanitario e la detassazione sia degli straordinari che dei premi di risultato legati a obiettivi di abbattimento delle liste d'attesa. Cioè tutti i 3 miliardi vanno a concentrarsi su un unico grande obiettivo che è l'abbattimento delle liste d'attesa. Ora, qui però sul tema del fondo sanitario mi corre l'obbligo di fare qualche precisazione perché io nei giorni scorsi ho sentito un po' di tutto. Vedo diciamo molte polemiche sul fatto che noi avremmo tagliato i fondi alla sanità. Mi corre l'obbligo di segnalare che con i quasi 136 miliardi di euro che raggiunge quest'anno il fondo sanitario nazionale noi raggiungiamo il più alto investimento mai previsto per la sanità. Cioè noi quest'anno mettiamo come dicevo quasi 136 miliardi per capirci nel 2019 prima che entrasse in vigore il covid il fondo sanitario ammontava 115 miliardi di euro sono 20 miliardi di euro in meno. Negli anni del covid il fondo sanitario viaggiava tra i 122 e i 127 miliardi di euro vaccini compresi e quindi mi sembra un po' forte sostenere che con 136 miliardi questo governo taglia la sanità. Poi certo si può fare il giochetto che è stato fatto di dire che scende in rapporto al prodotto interno lordo perché ci sono stati anni precedenti nei quali il pil scendeva e adesso fortunatamente il pil sale e quindi l'incidenza è sicuramente diversa ma è una buona notizia che il pil salga e quindi voglio dire le bugie che ho sentito poi alla fine non corrispondono alla realtà delle cose. L'altro grande obiettivo sul quale concentriamo le risorse è come abbiamo già fatto lo scorso anno la famiglia con particolare attenzione all'incentivo alla natalità. Oltre ai provvedimenti dello scorso anno che confermiamo ricorderete che lo scorso anno noi abbiamo aumentato l'assegno unico e abbiamo introdotto un ulteriore un ulteriore mensilità di congetto parentale retribuito all'ottanta per cento confermiamo questi provvedimenti non confermiamo il taglio dell'iva sui prodotti per la prima infanzia perché purtroppo il taglio dell'iva è stato nella stragrande maggioranza dei casi assorbito da aumenti di prezzo e quindi non penso che valga la pena di rinnovare questa misura aggiungiamo tre ulteriori misure per un importo di un ulteriore miliardo di euro. Quali sono queste misure? La prima è continuiamo a lavorare sul congetto parentale quindi oggi noi abbiamo i cinque mesi di congetto di maternità retribuiti al cento per cento, lo scorso anno abbiamo aggiunto un mese di congetto parentale utilizzabile dalla madre o dal padre entro i sei anni di vita del bambino retribuito all'ottanta per cento con questa legge di bilancio aggiungiamo un ulteriore mese utilizzabile fino a sei anni di vita del bambino utilizzabile dalla madre o dal padre retribuito al sessanta per cento e poi rimangono gli otto mesi retribuiti al trenta per cento che sono già in vigore per legge quindi facciamo un ulteriore passo sul congetto parentale aumentiamo in modo significativo il fondo per gli asili nido il nostro obiettivo è dire che al secondo figlio l'asilo nido è gratis questo è come vogliamo spendere le risorse sono circa 150 180 milioni di euro che rafforzano il fondo sugli asili nido ma la misura più significativa secondo me di questo miliardo di euro riguarda il tema della decontribuzione delle madri cioè noi prevediamo che le madri con due figli o più non paghino i contributi a carico del lavoratore voi sapete che i contributi previdenziali vengono pagati un terzo dal lavoratore e due terzi dal datore di lavoro la quota del lavoratore per le madri che hanno due o tre figli la paga lo stato ovviamente con dei limiti il limite è per le madri con due figli fino a quando il secondo figlio cioè il più piccolo ha dieci anni per le madri con tre o più figli fino a quando il figlio più piccolo ha 18 anni il concetto che noi vogliamo stabilire è una donna che mette al mondo almeno due figli in una realtà nella quale noi abbiamo disperato bisogno di invertire i dati sulla demografia ha già offerto un importante contributo alla società e quindi lo stato diciamo cerca di compensare a pagando i contributi previdenziali e quindi facendo una cosa che non solo aiuta anche in termini di riconoscimento pensionistico ma che aiuta anche a smontare il racconto per il quale favorire la natalità è un disincentivo al lavoro delle donne noi vogliamo dire esattamente il contrario vogliamo dire che le due cose possono stare perfettamente insieme e che vogliamo incentivare per chi ovviamente mette al mondo dei figli e nel caso in cui ovviamente voglia lavorare. Ci sono poi una serie di altri provvedimenti e vado alla conclusione fringe benefit ricorderete lo scorso anno eravamo intervenuti in maniera significativa sul fringe benefit anche qui rendiamo la misura strutturale con delle modifiche rimane il fringe benefit come sapete è l'unatantum che il datore di lavoro può dare al lavoratore una misura detassata la portiamo per il 2024 a 2000 euro per i lavoratori con figli a 1000 euro attualmente è 258 circa lo portiamo fino a 1000 euro per tutti gli altri lavoratori viene confermata la carta dedicata a te anche per il 2024 è sempre una misura che serve a combattere l'inflazione particolarmente per le famiglie più fragili dopodiché un'altra misura la quale io tengo molto è l'introduzione del principio più assumi meno paghi questa è diciamo una delle misure che sono scritte nel nostro bilancio nel nostro chiedo scusa programma in buona sostanza noi introduciamo per le imprese una super deduzione del costo del lavoro per chi assume a tempo indeterminato super deduzione pari al 120 per cento per tutte le assunzioni a tempo indeterminato arriva fino al 130 per cento per chi assume mamme andrer 30 per settori di reddito di cittadinanza e persone con invalidità in buona sostanza anche qui il principio che stiamo cercando di applicare per le aziende è più è alta l'incidenza di manodopera più alta l'incidenza di dipendenti che sia in rapporto al fatturato meno tasse si devono allo stato questa misura sostituisce la decontribuzione che era prevista solo per giovani e donne ma si somma con la decontribuzione per chi assume nel mezzogiorno che è prevista nel decreto sulla zona economica speciale unica del mezzogiorno voi sapete che ci sono e ci sono la manovra il bilancio due miliardi di euro che servono a coprire la zona economica speciale del mezzogiorno che è una norma che consente in tutto il mezzogiorno di avere intanto importanti crediti di imposta e anche norme sulla decontribuzione i contorni li sono ancora da definire perché dipende dalla decisione che la commissione europea porterà avanti sul temporary framework ma in questo caso nel mezzogiorno l'impatto sarà ancora più significativo l'ultima cosa che ho da dire riguarda il tema del lavoro autonomo perché come voi sapete anche qui abbiamo iniziato un lavoro importante lo scorso anno particolarmente sulla tassa piatta sull'aumento dell'importo per la tassa piatta al 15 per cento per i lavoratori autonomi viene ovviamente confermata questa misura viene prorogata per altri tre anni norma che io considero molto importante l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa che di fatto è un equivalente della una sorta di cassa integrazione anche per i lavoratori autonomi quindi risponde al principio che un lavoratore è un lavoratore va tutelato indipendentemente dal tipo di contratto di mansione che svolge l'abbiamo prorogata per ulteriori tre anni e abbiamo anche ampliato il reddito previsto per poter usufruire di questo ammortizzatore sociale e altra cosa molto importante che all'interno delle altre norme che abbiamo approvato insieme alla manovra è che per la prima volta quest'anno i lavoratori autonomi non dovranno pagare l'anticipo dell'IRPEF tutto insieme a novembre ma poteranno se vorranno rateizzarlo in cinque rate da gennaio fino a giugno altra misura che io credo possa essere molto ben molto ben considerata dai lavoratori autonomi io mi devo per forza di cose fermare qui chiaramente do la parola spero di aver detto tutto correttamente do la parola al ministro economia ai vice premier al viceministro leo ringrazio tutti e ringrazio il consiglio dei ministri perché eh e chiudo la gran parte di questo lavoro è stato fatto anche chiedendo sacrifici ai ministeri da palazzo chigi in poi tutti abbiamo tagliato qualcosa nelle nostre spese nel nostro funzionamento altrimenti noi non avremmo potuto tirare fuori queste risorse per le famiglie per i lavoratori per i pensionati credo che sia un grande segnale di serietà ma anche di disponibilità diciamo che tutto il consiglio dei ministri che 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 tutta la maggioranza che i vice premier hanno messo insieme per cui io sono molto fiera di questo lavoro che abbiamo fatto sono molto fiera del risultato di questa manovra sono molto fiera di dire ancora una volta che c'è un governo che non sprega risorse in cose inutili che non sprega risorse in mille rivoli che concentra le sue risorse su obiettivi chiari che si è dato che continua a perseguire anno per anno e che continua a perseguire fa cercando di fare ogni anno un pezzetto e un altro passo in avanti a me pare questo il segnale di maggiore serietà che si può dare agli italiani che ci guardano e che hanno bisogno di quella serietà e a tutti gli altri che che sono interessati a sapere che cosa facciamo quindi grazie davvero al ministro giorgetto e al viceministro leo ai miei due vice premier grazie a tutto il consiglio dei ministri scusatemi se non posso rimanere purtroppo non era noi abbiamo dovuto fare il consiglio stamattina perché ministro giorgetti deve partire per un importante anche lui vertice internazionale le cose si sono incastrate un po così però avete autorevolissime persone che risponderanno alle vostre domande grazie ancora scusatemi grazie tutti i miei colleghi se mi danno la possibilità di parlare subito perché anch'io poi devo raggiungere il re del giordania con che con il ministro degli esteri per l'incontro sulla delicata situazione che ben sapete c'è in medio oriente voglio sottolineare innanzitutto la coesione la compattezza di questa maggioranza siamo partiti diversi ma quando si tratta di prendere decisioni nell'interesse dei cittadini rispettiamo gli impegni che abbiamo preso in campagna elettorale e ci troviamo in perfetta sintonia tant'è che il consiglio dei ministri per le approvazioni delle due questioni più importanti ha lavorato con grande rapidità e abbiamo approvato dei testi che vanno nella direzione sia pure in un contesto complicato di aiutare i cittadini voglio sottolineare tre punti che mi stanno particolarmente a cuore quello che riguarda i pensionati era un impegno che aveva preso Berlusconi fin dall'innascita di questo governo e stiamo lavorando in questa direzione io credo che l'anticipo del conguaglio di pericolazione per l'anno 2023 rappresenti un ottimo segnale a tutti i pensionati che vivono anche momenti difficili a causa della inflazione altro tema per noi importantissimo nel rinnovo dei contratti è quello che si potrà fare per il comparto difesa e sicurezza in un momento particolarmente delicato come quello attuale è giusto che si dia un segnale di attenzione ai carabinieri, poliziotti, finanzieri e penitenziaria perché sono i nostri custodi in un momento così di grande tensione così come riguarda il comparto della difesa altro terzo punto fondamentale è quello che riguarda la sanità ieri in un discorso ho detto che le liste d'attesa sono una vergogna nazionale e tutti quanti insieme abbiamo deciso di assestare un colpo veramente decisivo perché non si può morire di tumore o di qualche altra malattia perché ti fanno l'attacca quando tu purtroppo non ci sei più questo è veramente una priorità che riguarda tutti i cittadini di tutta l'Italia è una vergogna alla quale noi dobbiamo mettere rimedio e con la decisione di oggi credo che sia stato dato un segnale di grande importanza ultima questione il taglio del cuneo fiscale confermato andiamo nella direzione di sostenere i lavoratori ed imprese perché la vera sfida è la crescita abbiamo una contingenza con un'inflazione che cresce una inflazione esogena non endogena ma la scelta che abbiamo fatto va giustamente nella direzione di continuare come abbiamo fatto l'anno scorso nella direzione di sostenere le famiglie e le imprese soprattutto quelle che hanno problemi più delicati non c'è lo voglio dire e ringrazio il ministro Giorgetti e il sottosegretario Leo per avermi rassicurato da questo punto di vista non c'è alcuna tassa di successione su chi che sia quindi è un fatto positivo altro tema importante secondo me è il riconoscimento che viene dato alle scuole paritarie soprattutto le scuole dell'infanzia questo è un fatto positivo quindi sono misure che permettono di continuare a garantire anche la libertà di insegnamento a cominciare dai più piccoli grazie e mi limito a questo eccomi sì non mi ripeto siamo estremamente soddisfatti anzi il nostro obiettivo come maggioranza è che ci sia l'approvazione nei tempi più rapidi possibili senza emendamenti di maggioranza poi l'opposizione farà la sua parte ovviamente non mi ripeto perché è sempre fastidioso aggiungo la soddisfazione sul tema infrastrutture perché ci sono investimenti sulle ferrovie, sulle strade, sulle autostrade, sugli alloggi universitari e smettendo settimane di chiacchiere a vuoto su diversi giornali c'è la copertura necessaria per il collegamento stabile fra Sicilia, Italia ed Europa quindi carta canta adesso attendiamo che qualche prezioso analista si scusi per quello che ha scritto nelle scorse settimane c'è ed è un segnale di inversione di tendenza se devono tagliare le loro spese i ministeri gli enti pubblici, gli enti locali c'è anche il primo intervento sul canone Rai che verrà tagliato dalla bolletta dei contribuenti italiani quindi dal mio punto di vista è una manovra che fatte salve le condizioni internazionali complicate di partenza è assolutamente positiva per decine di milioni di lavoratrici, lavoratori e pensionati italiani bene, io faccio una brevissima diciamo così visione perché poi nel particolare credo che sia già stato detto poi ci saranno le vostre domande io avevo detto e ribadisco che l'impostazione della manovra sarebbe stata seria e prudente questo è confermato come detto noi ci siamo concentrati esclusivamente con l'extra deficit così in qualche modo commentato e contestato semplicemente per dare una forma di sollievo ai redditi medio-bassi soprattutto quelli del lavoro dipendente quindi confermando la decontribuzione e con lo scalone della prima riduzione della riforma fiscale concentrato soltanto appunto su questo tipo di redditi per compensare quello che è oggettivamente la riduzione del potere d'acquisto che ha colpito tutti ma soprattutto appunto i redditi medio-bassi è stato quindi chiesto un sacrificio a tutti i ministeri che hanno dovuto in qualche modo rinunciare a diversi progetti, idee e si è attuata una spending review che come vi avevo detto è stata significativa e significativa dell'ordine del 5% su tutte le spese discrezionali di Stato e del comparto regioni e enti locali con le regioni abbiamo già racconto un accordo prima del Consiglio dei Ministri in questo senso questa manovra conferma quindi gli obiettivi che erano stati recentemente approvati dal Parlamento con la Nadev oggi abbiamo anche in qualche modo avvistato e approvato il documento di bilancio il documento programmatico di bilancio che quindi è stato inviato in sede europea per tutte le valutazioni del caso è evidente che il quadro e la congiuntura rendono e hanno reso problematica la costruzione del bilancio perché il peso superiore degli interessi del debito pubblico si fa sentire si è fatto sentire e ci sono delle variabili che in questo momento non sono ponderabili ma che tutti quanti voi potete immaginare che vedremo monitoriamo noi e anche tutti gli altri credo miei colleghi ministri delle finanze che incontrerò questa sera in Lussemburgo stiamo monitorando perché ad esempio per quanto riguarda l'energia le previsioni erano favorevoli per quanto riguarda la discesa dei prezzi del gas e quindi dell'energia elettrica finendo i sussidi che sono stati previsti fino a tutto il 2023 è chiaro che la situazione potrebbe evolvere in senso negativo rispetto a quelli che erano gli auspici quindi la manovra ha una sua solidità sono confidente l'ho detto e lo ribadisco rispetto al fatto che quando sarà letta nei particolari potrà avere anche una favorevole approvazione in sede europea e naturalmente da parte dei mercati oltre che dai diciamo risparmiatori italiani che ci hanno premiato con la loro fiducia recentemente con il successo del BTP Valore mi fermo qui e lascio la parola al Vice Ministro Maurizio Lema allora grazie come ha illustrato il Presidente del Consiglio nel Consiglio dei Ministri di oggi sono state approvate tutta una serie di misure che riguardano la materia fiscale sostanzialmente si dà avvio a quella che è la riforma fiscale che è stata approvata con la legge delega 111 nel mese di agosto partiamo con queste e poi in tempi rapidissimi approveremo anche gli altri schemi di decreti legislativi in modo tale di avere per la parte compatibile con le risorse finanziarie un quadro d'insieme entro la fine dell'anno sui due provvedimenti che sono stati approvati oggi il primo già stato illustrato dal Presidente Meloni riguarda l'IRPEF e riguarda anche diciamo meccanismi di agevolazione per il mondo delle imprese per quanto riguarda l'IRPEF è stato già detto che si passa dalle quattro aliquote oggi vigenti 23, 25, 35 e 43 a tre aliquote 23% che abbracciano lo scalone sino a 28.000 euro da 28 a 50 resta ferma l'aliquote del 35 e oltre resta ferma aliquote il 43% si fa chiarezza per quanto riguarda la parte detrazioni quindi nessuno tocca ad oggi né detrazioni né deduzioni perché queste richiedono un lavoro che deve essere fatto con molta più attenzione e cautela e non lo si può fare in tempi brevissimi però si è pensato di procedere in questo modo innanzitutto per quanto riguarda le spese mediche queste resteranno detraibili secondo i meccanismi ordinari poi ci sarà una franchigia relativa alle spese di 260 euro l'eccedenza rispetto a questi 260 euro di detrazioni sarà detraibile con i meccanismi che conosciamo quindi con il 19% ossia con l'intero a montare perciò quindi si tolgono i 260 e tutta l'eccedenza sarà detraibile importante invece anche l'altra misura chi più assume meno paga che cosa significa significa che dobbiamo far riferimento a un anno intero prendiamo ad esempio l'anno 2023 diciamo il personale occupato nel 2023 rappresenta la base per poter commisurare poi l'incremento di base occupazionale supponiamo che nel 2023 c'erano 100 dipendenti se si incrementerà il numero dei dipendenti a tempo indeterminato di 30 unità nel 2024 allora su quelle 30 unità si considererà il costo del lavoro con una maggiorazione del 20% nel caso in cui le assunzioni avvengono con soggetti diciamo che non appartengono a particolari categorie e poi per le 4 categorie che ricordava il Presidente Meloni per le 4 categorie ci sarà un'ulteriore deduzione del 10% perché abbiamo fatto questa misura subito perché in vista di quella che poi sarà la riforma fiscale dove pure pensiamo di abbassare le aliquote per gli investimenti e per l'occupazione dobbiamo tener conto del fatto che già c'è un provvedimento quello che diciamo sta seguendo il Ministro Urso che dà benefici alle imprese che investono in diciamo in investimenti qualificati 4.0 5.0 ricerca e sviluppo quindi si lavora su due versanti sul versante che sta seguendo il Ministro Urso e sul nostro versante per incrementare l'occupazione questo per quanto riguarda il primo provvedimento altrettanto importante è il provvedimento che riguarda la fiscalità internazionale una delle tematiche che sono sempre state sollevate nel corso del tempo è che il nostro sistema di fiscalità internazionale fosse un schema che presentava tutta una serie di falle allora abbiamo voluto correggere tutta una serie di situazioni patologiche che potevano generare illusione fiscale sia sul versante delle persone fisiche sia sul versante delle società sul versante delle persone fisiche abbiamo ben dettagliato il concetto di soggetto residente in Italia voi sapete che soprattutto negli ultimi tempi le imprese in particolare le imprese del nord-est lamentavano il fatto che c'erano molti lavoratori che diciamo continuavano ad essere residenti in Italia però prestavano l'attività per conto di imprese estere e via dicendo e avendo riguardo al fatto che svolgevano un'attività lavorativa per un soggetto estero si ritenevano soggetti residenti all'estero e quindi non soggettavano a tassazione i redditi che venivano realizzati da questo punto di vista si è detto siccome il soggetto ha una presenza fisica in Italia quindi sta in Italia è soggetto residente quindi deve pagare le imposte in Italia indipendentemente dalla circostanza che svolga attività di smart working a favore di soggetti esteri la stessa cosa abbiamo fatto per quanto riguarda le imprese perché anche qui come voi sapete ci sono stati fenomeni molto molto rilevanti in cui un'impresa italiana aveva una struttura all'estero una società all'estero però mandava diciamo seguiva la gestione ordinaria dava indirizzi strategici e allora questa società era una società oggettivamente estero vestita e quindi la stessa amministrazione finanziaria spesso si trovava a contestare queste situazioni con un contenzioso che si portava avanti nel tempo abbiamo voluto dire che se una società italiana ha una società all'estero quindi c'è una società estera a cui partecipa nel momento in cui vengono dati indirizzi strategici c'è una gestione ordinaria questa società è soggetto residente in Italia l'ultima cosa abbiamo introdotto anche in osseguo a delle regole OX e a una direttiva comunitaria la cosiddetta global minimum tax anche questa mirata a contrastare dei fenomeni attraverso i quali le multinazionali vanno a posizionare delle società partecipate all'estero che in paesi dove la tassazione è ridotta la tassazione al di sotto del 15% nel caso in cui vi è questo differenziale i recuperi andranno a vantaggio del sistema fiscale italiano questo è un po' il quadro d'insieme dei due provvedimenti che ho detto faranno seguito in tempi ravvicinati anche altri provvedimenti tra cui la riforma dello statuto dell'integrazione allo statuto del contribuente i versamenti e gli adempimenti dei contribuenti il concordato preventivo e il sistema sanzionatorio contiamo in tempi rapidi di portare all'attenzione del consiglio dei ministri questi provvedimenti in modo tale di dar corso finalmente a una riforma fiscale che è ormai attesa sin dagli anni 70 grazie con le domande Gianni Trovati del Sole 24 Ore buongiorno buongiorno grazie in particolare al ministro dell'economia naturalmente vista la giornata volevo avere un quadro se possibile un po' più chiaro delle coperture extra l'extra deficit nel senso che dai 15 e 7 di extra deficit ai quasi 24 miliardi indicati dal presidente del consiglio c'è uno spazio di circa 8 miliardi si era parlato di una spending di 2 miliardi però mi chiedevo se comprendendo anche regioni e denti locali questo valore fosse più alto e quindi quale fossero il quadro delle principali voci di copertura che coprono appunto quegli 8 miliardi e in questo contesto se possibile una risposta sul dibattito che si sta avviando sul taglio IRPEF che inizia solo per un anno vedo sempre in termini di coperture nel decreto chiamiamolo IRPEF IRES anche una ipotesi di copertura molto rilevante e pluriennale dall'abolizione dell'ACE mi chiedo se intendete utilizzare anche quella per come dire proseguire poi nell'IRPEF abbassata anche nel 2025 e seguenti oppure se volete percorrere altre strade grazie allora per quanto riguarda le coperture 5 miliardi arrivano dalle misure relativamente a tagli di bilancio piuttosto che piccole rifiniture per quanto riguarda gli aumenti di imposte 2 miliardi 5 miliardi e 5 2 miliardi e 6 invece da rimodulazioni che si riferisce al fatto che sono state anticipate alcune spese del 2023 e quindi si sono liberati i spazi per quanto riguarda il 2024 ricordo tra l'altro che miracolosamente ma devo dire meritoriamente il Parlamento non ha attaccato il fondo per la riduzione della pressione fiscale previsto dalla precedente legge di bilancio pari ai 4 miliardi e mezzo che finanziano esattamente la riforma dello scalone dell'aliquità IRPEF per quanto riguarda l'aspetto del collegamento IRPEF un anno e ACE eliminazione dell'ACE va ricordato che questa misura diciamo è correlata anche alla riduzione del cuneo fiscale l'obiettivo come ha ricordato il Presidente del Consiglio è quello di ridurre e quindi dare maggiore disponibilità ai contribuenti ma poi al tempo stesso evitare che questa disponibilità venga onerosa per effetto del carico fiscale relativamente all'ACE va detto che l'ACE o una misura di patrimonializzazione dell'impresa ma non finalizzata agli obiettivi che sono contenuti nella legge delega nella legge delega abbiamo detto riduciamo il carico fiscale ma per due cose per l'occupazione da una parte per l'investimento dagli altri quindi ha un senso l'eliminazione dell'ACE in vista di quello che dovrà essere fatto perché successivamente noi abbiamo in anima appunto di ridurre il carico fiscale proprio per il mondo imprese c'è un altro aspetto che ci ha indotto a eliminare l'ACE è che alla luce di quella che sarà la global minimum tax certi meccanismi agevolativi non specificamente finalizzati all'investimento debbono essere portati in riduzione non sono più consentiti quindi sia per ragioni di ordine comunitario e sia per ragioni di ordine interno questo è il motivo per cui abbiamo eliminato l'ACE in modo strutturale Laura Sala Ascanios volevo chiedere al ministro Giorgetti se ci può per cortesia disegnare per grandi aggregati l'allocazione delle risorse di questi 24 miliardi che compongono la legge di bilancio per grandi aggregati avevo una domanda per il ministro Salvini a proposito della bolletta elettrica non ho capito bene ma quindi non si pagherà quali sono le modifiche diciamo sul fronte del pagamento della bolletta elettrica lei accennava qualcosa a questo proposito il canone in bolletta quindi non si pagherà più il canone in bolletta o ci sarà una riduzione in bolletta del canone ma sempre attraverso la bolletta e poi una domanda al ministro Leo ma con il taglio delle detrazioni questo taglio diciamo lineare di 260 euro delle detrazioni oltre i 50 mila euro di reddito non c'è il rischio per queste categorie e poi in realtà non ci sia più la neutralità ma ci sia un aggravio di gettito grazie Allora per quanto riguarda il canone c'è la riduzione da 20 a 15 cioè sostanzialmente un quarto del canone non viene più pagato in bolletta per quanto riguarda i grandi aggregati 10 miliardi eh? No scusa in bolletta da 20 a 15 euro ogni mese nella bolletta c'è invece di 20 troverai 15 per quanto riguarda da 90 passa a 70 euro eh? è l'inizio di un percorso virtuoso io per sopportare di più la cosa guardo la bolletta quando c'è scritto non penso a quello che pago tutto l'anno e allora ho sbagliato a spiegare ecco a beneficio nella bolletta quando uno va a cercare la bolletta troverà questo tipo di riduzione dove cosa finanziamo con i 24 di cui abbiamo parlato prima allora per i grandi aggregati 10 miliardi la decontribuzione 4 miliardi e mezzo la riduzione dello scalone 3 miliardi erotti perché dobbiamo considerare anche quello che diamo alle autonomie speciali sulla sanità 5 miliardi contratti del pubblico impiego poi ci sono tra virgolette altre cosette che di minore identità ma che siamo obbligati a sopportare tra virgolette Ucraina piuttosto che le missioni in giro per il mondo dei nostri soldati che costano 1 miliardo e 200 milioni ogni anno e eccetera eccetera ma evidentemente credo che abbiamo quasi raggiunto e poco altro ecco ricordo che abbiamo rifinanziato il e ristrutturato il fringe benefit i premi di produttività che vengono confermati cioè le cose fondamentali come ho detto e ho ribadito altre forme di spesa di vario genere tutte meritorie che sono state proposte dai singoli ministri non sono state accolte per quanto riguarda i 260 euro per quale motivo noi abbiamo fatto questo intervento perché abbiamo detto noi dobbiamo salvaguardare le fasce medio-basse per effetto del meccanismo della rimodulazione del primo scaglione ne avrebbero tratto vantaggio anche soggetti con redditi superiori allora il motivo per cui si è lavorato in questa direzione quindi messo un tetto alla detraibilità è proprio per innanzitutto alla luce di realizzare un po' di risorse a beneficio sempre per le fasce più basse e poi per evitare che ci sia un vantaggio per soggetti che obiettivamente possono permettersi una franchigia così limitata a favore appunto di dare maggiori benefici ai soggetti di fasce più bassa Pira Milano Finanza Buongiorno prima un attimo di chiarezza sui provvedimenti che sono stati approvati perché ci sono i decreti legislativi e poi c'è anche un decreto fiscale un attimo per capire quali sono i contenuti quindi del decreto fiscale per il ministro Giorgetti se dalla quota dei 21 miliardi circa di privatizzazione se è prevista una proprio per il 2024 se contate almeno di fare qualche operazione grazie allora cosa abbiamo provato oggi la cosa più importante del motivo per cui ci siamo trovati questa mattina è il documento programmatico di bilancio che viene inviato all'Unione Europea e c'era la scadenza di oggi e clamorosamente nel 2024 questo governo di populisti e sovranisti l'ha rispettato diciamo così e quindi naturalmente a fianco a questo far parte del SET il decreto legge di accompagnamento che di natura prevalentemente fiscale la legge di bilancio e i decreti legislativi di cui ha parlato Maurizio Leo quello dello scalone della fiscalità internazionale che seguiranno dei percorsi paralleli in Parlamento cioè il decreto legge con i tempi ritmi del decreto legge la legge di bilancio con i tempi ritmi regolamentari della legge di bilancio e i decreti legislativi per i pareri e per la conversione è chiaro che il governo tutti questi tre provvedimenti deve averli approvati entro il 31 dicembre il prima possibile naturalmente per tanti motivi nel decreto legge fiscale c'è poi la norma per cui tutti i lavoratori autonomi che hanno ricavi e compensi fino a 170.000 euro non pagano più la conto a dicembre ma vengono spalmati sostanzialmente i cinque rati nel 2024 e ci sono i provvedimenti nel decreto legge che sono giustificati appunto dall'urgenza tipo l'anticipo dell'adeguamento all'inflazione effettiva per le pensioni che verrà pagata quindi a novembre e dicembre e l'eventuale anticipo della vacanza contrattuale dei contratti che probabilmente dopo la contrattazione presso Aran saranno stipulati nel 2024 che saranno in qualche modo onorati in anticipo per quello che ovviamente sarà possibile per i dipendenti delle amministrazioni della sicurezza dipendenti dello Stato nel mese di dicembre quindi la domanda sulle privatizzazioni che naturalmente è la più diciamo interessata e insidiosa noi abbiamo e lo ribadisco un programma ambizioso ambizioso normalmente dai nostri oppositori viene definito in senso negativo invece per quanto riguarda il governo lo valuto in senso positivo che fa riferimento dei grandi aggregati che richiedono delle procedure anche complicate di passaggi tecnico procedurali per arrivare al risultato come ho giustamente letto e che quindi richiedono tempi altre realtà invece hanno minori problemi sempre tutto molto complesso però possono in qualche modo già traguardare dei risultati per quanto riguarda il 2024 paradossalmente lo dico così incidentalmente per togliermi un sassolino o uno sfizio io penso nel 2024 di poter finalmente incassare quelle ridotte disponibilità che dovrebbero derivarmi della privatizzazione di ITA che noi abbiamo fatto che credo che sia un risultato storico rispetto a 30 anni di vani e discussioni mediatiche e che però diciamo siamo ancora alla discussione della prenotifica a livello diciamo comunitario io spero onestamente che entro la fine di ottobre finalmente la notifica formale possa essere depositata e le centinaia di richieste assolutamente legittime che la commissione ha fatto la DG Competition ha fatto possono darci la possibilità di finalizzare l'operazione ecco l'ho detto così incidentalmente perché molti ce ne sono dimenticati ma nel 2024 potrebbe in qualche modo chiudersi questa questa prima privatizzazione anzi devo ringraziare poi i commissari dell'amministrazione straditaria di Alitalia che stanno miracolosamente chiudendo e voi sapete perfettamente che non è abbastanza diciamo così normale che le amministrazioni straordinarie si possono chiudere rapidamente efficacemente avendo portato a compimento i propri obiettivi lo stanno facendo e probabilmente restituiranno anche qualche residuo allo Stato chiuso la parentesi Teodoro Andreadis dell'Agenzia Greca Athens News Agency una domanda per il Ministro Salvini che esula un po' dalla giornata di oggi dal programma sulla questione di migrazione e quello che sta succedendo in Israele e Palestina se siete più preoccupati riguardo agli arrivi e riguardo ai flussi migratori tenendo conto della situazione di emergenza ci sono state le dichiarazioni del Ministro Piantedosi su tempi difficili e anche il Ministro della difesa e se ritiene che ci sia la necessità di una più stretta collaborazione con i paesi mediterranei dell'Unione Europea su questo so che con la Grecia c'è una collaborazione molto stretta come vede la situazione grazie rispondo velocemente nel rispetto ovviamente del lavoro che Giorgio e Antonio stanno facendo in questo momento quindi io oggi da Ministro delle Infrastrutture mi porto a casa con estrema soddisfazione degli investimenti in conto capitale su infrastrutture che l'Italia aspettava da decenni e quindi è una giornata di grande soddisfazione ed è una giornata di preoccupazione non tanto per le eventuali ripercussioni sul fronte dell'immigrazione perché stiamo seguendo con trebidazione estrema attenzione preoccupazione quello che accade in Terra Santa perché ci sono di mezzo migliaia di vittime ad oggi e quindi la speranza è che il conflitto non si estenda ma non per ragionamenti egoistici di quello che potrebbe accadere da noi a Lampedusa o a Pozzallo perché rischia veramente di essere un conflitto devastante da tutti i punti di vista questa manovra ha il rinnovo del contratto anche delle forze dell'ordine quindi estremamente importante ha delle voci di spesa dedicate all'immigrazione al contrasto dell'immigrazione clandestina ci sono i centri per i rimpatri quindi diciamo che c'è tutto quello che ci deve essere per quello che riguarda la reazione di Israele inevitabile dopo la carneficina a cui abbiamo assistito speriamo che tutti usino misura bene Flavio Rotondi Bloomberg Ministro Durgietta a proposito di progetti ambiziosi volevamo sapere se vista la presentazione dell'offerta che ha per la rete telecom se è prevedibile che questo progetto si concluda entro magari il prossimo anno settembre che possa esserci anche magari da parte di Vivendi una sorta di opposizione al progetto grazie ringrazio per la domanda lei può immaginare il tipo di note di serata che ho passato io posto che dovevo chiudere la legge di bilancio e anche chiudere l'offerta per la Netco è stata molto complicata la procedura e anche la definizione della proposta la proposta rispetta gli interessi dello Stato anche le cifre in qualche modo sono state ampiamente dibattute perché lo Stato quando si muove lo deve fare non regalando niente a nessuno adesso diciamo la proposta è sul tavolo il tema di team complesso la decisione spetterà alla Consiglio dell'amministrazione all'Assemblea io non entro in questi aspetti anche le fasi successive nell'ipotesi di accoglimento della proposta siamo consapevoli sono molto complesse però io penso che questo governo su tutte vicende magari ecco incancrenite uso deliberatamente questo tempo questo si è mosso e ha fatto delle proposte vediamo adesso l'esito l'esito finale cioè l'esito finale soprattutto se la proposta è accettata se no si penserà a qualcosa di diverso però ribadisco noi non ci tiriamo noi non ci stiamo tirando indietro e anche su vicende complicate politicamente sensibili prenderemo la decisione che dobbiamo prendere con l'atteggiamento che adesso non voglio ripetere i soliti aggettivi perché se no mi prendete in giro però sono quelli lì cioè l'atteggiamento che il ministro dell'economia ha sulla politica di bilancio sulle privatizzazioni su tutti questi tipi di situazioni è sempre lo stesso improntato grandissima serietà Paolo Cappelleri dell'ANSA sì buongiorno ministro Giorgetti volevo sapere se in manovra è previsto il passaggio da quota 103 a 104 in che termini sul fronte pensioni e poi prima il vicepremier Salvini escludeva emendamenti di maggioranza durante l'iter parlamentare c'è una quota di risorse destinate ad eventuali proposte delle opposizioni? Siccome non ci sono proposte per la maggioranza difficilmente potevo mettere a disposizione risorse per le opposizioni però la dinamica del Parlamento in qualche modo la rispetto e quindi non mi riguarda per quanto riguarda i pensionamenti anticipati ci sono delle forme rafforzate e restrittive rispetto al passato e fa parte di quello atteggiamento complessivo che diciamo così ho detto in precedenza ho ribadito qui e ho anche spiegato a tutti coloro che in giro per il mondo mi hanno chiesto cosa sta facendo il governo italiano perché forse è meglio sentirlo dalla viva voce del ministro che leggerlo così in modo sconclusionato su diversi siti più o meno accreditati che non fanno riferimento diciamo alle persone che sono qui presenti ma che ho visto fiorire con mille proposte anche che avrebbero dovuto trovare spazio nella legge di bilancio che come ho detto in altre conferenze di stampa non sono mai neanche entrate nella testa del ministro che stava scrivendo la legge Alessandro Barbera alla stampa ministro buongiorno non ho capito la cosa della sua risposta al collega precedente su 404 se mi può perché ho l'impressione si parlava di un'ipotesi di intervento sulle sulle finestre di pensionamento che non ci sarà più né APE sociale né 403 nelle forme previste l'anno scorso sarà molto più in qualche modo restrittivo l'accesso del pensionamento anticipato però su questo mi pare di capire che ancora il lavoro è in corso no no i lavori non sono in corso stanno definendo la relazione tecnica invece le volevo chiedere le devo fare la domanda che è inevitabile che le faccia no no faccia pure tutte le domande il suo diritto che è quella sul MES perché a fine mese scade la moratoria che il governo ha chiesto al Parlamento sostanzialmente per la mozione delle opposizioni quindi dovrete dare un giudizio su questo anche perché parte della credibilità del pacchetto complessivo molto complicato che le ha messi insieme sta anche nell'entrata in vigore di quel fondo che come dire è una in qualche modo è una garanzia anche per il sistema bancario e quindi in qualche modo rientra nel giudizio complessivo credo che le agenzie di rating daranno sulla solvibilità dell'Italia ho premesso che il sistema bancario già con gli stress test dell'EBA fatti quest'estate è tra i più solidi a livello europeo dopo diciamo gli interventi tanto criticati dal governo italiano diventerà il sistema più solido a livello europeo il governo farà quello che dirà il Parlamento ok cioè sul MES purtroppo anche l'accordo che fu assunto non passò mai dal Parlamento per il parere preventivo quindi noi aspettiamo la decisione del Parlamento che ha scritto in modo direi abbastanza chiaro nelle sue decisioni di rinvio tutta una serie di riflessioni e di attese e di aspettative che aveva appunto il Parlamento spero che questi siano soddisfatti almeno prima della fine dell'anno non prima della fine del mese perché la via mera scadenza è il 31-12 del 2023 quando appunto viene meno il backstop bilaterale dovrebbe entrare in funzione il MES generale quindi i lavori sono in corso naturalmente a livello di profondità di sottomarini ecco Santi Pinol Market News buongiorno buongiorno ministro Giorgetti una domanda doppia la prima è che il sottosegretario Freni aveva situato la soglia da 340-350 come la zona rossa per gli esperti italiani io le chiedo più sul rendimento che ora preoccupa di più i mercati dove sarebbe la soglia in cui il BTP a 10 anni sarebbe in zona pericolosa in tasso percentuale e volevo chiedere su questi tagli degli scaloni fiscali dell'IRPEF visto che è una misura per un anno se l'Italia non cresce all'1,2% come stanno dicendo diversi istituti internazionali è possibile mantenerla al prossimo anno? o è facile di mantenerla? Grazie qui di facile non c'è assolutamente nulla ho sempre detto che le manovre erano complicate era complicata la manovra che ho fatto l'anno scorso che abbiamo scritto che ho scritto in una settimana mi sembra che la performance dell'Italia per quanto riguarda i conti pubblici nel 2023 sia stata eccezionale perché pensate che al netto della riclassificazione statistica di Eurostat che è una decisione che non riguarda il comportamento del governo di Tarlano avremmo chiuso il 2023 con il 4,3% e non il 4,5% che era l'obiettivo che abbiamo mandato in Europa che abbiamo approvato con la Nadev quindi l'economia italiana e il governo italiano per quanto riguarda la finanza pubblica nonostante diciamo eredità complicate come quella del super bonus nel 2023 ha più che raggiunto gli obiettivi che abbiamo approvato l'anno scorso e qui le domande dell'anno scorso erano un po' dubitative circa la capacità di farlo continuo a pensare che non soltanto per merito del governo ma soprattutto per la capacità dell'economia italiana di essere resiliente ecco rispetto a quello che avviene in giro per il mondo si possa fare ancora non ci sono livelli di spread rossi gialli o quant'altro io ogni giorno credo che quello che dobbiamo fare come governo non soltanto il ministro dell'economia non soltanto il presidente del consiglio ma tutti i ministri dimostrare di lavorare seriamente e oggi l'approvazione così rapida di una legge di bilancio che onestamente è andata chiamiamola così a prendere a schiaffoni tutti i ministri a beneficio degli italiani che guadagnano redditi medio-bassi sia la dimostrazione di questo tipo di coscienza che ha diciamo così tutta la classe politica che in questo momento è il governo del paese e confido che oltre chi ha il governo anche il Parlamento mi collego a quello che ha detto prima il vicepresidente Salvini anche il Parlamento e soprattutto ovviamente la maggioranza che sostiene questo governo adotti esattamente la stessa tipo di atteggiamento in Parlamento quindi io apprezzerei moltissimo che i parlamentari della maggioranza apprezzassero il lavoro che è stato fatto e è stato provato oggi e quindi evitassero di presentare emendamenti però è un diritto costituzionale che io riconosco assolutamente pieno e legittimo Tommaso Ciriaco Repubblica si sente? tre dubbi telegrafici al ministro Giorgetti se esiste un tetto a reddito per la decontribuzione delle donne lavoratrici con due più figli cioè se vale per tutti o se esiste un tetto oltre il quale non vale al ministro Salvini due dubbi telegrafici il primo è se la Lega intende presentare in Parlamento una proposta per limitare le manifestazioni però ha solletto oggi un suo stretto parlamentare lei vicino che annunciava questa intenzione e la seconda se ci dice finalmente se posso aggiungere da chi ha ricevuto il famoso video sul magistrato apostolico glielo chiedo perché le forze dell'ordine negano di averlo fatto immagino che lei da ministro dell'interno non voglia passare come chi posta un video che proviene da fontanonima grazie avendo cose più importanti di cui occuparmi e ritenendo che il problema derivante da quel video sia quello che c'è nel video e quindi continuo a ribadire questo poi non sto seguendo le manifestazioni di piazza ovviamente chiarisco semanticamente visto che qualche giornalista è riuscito a scrivere in questi minuti che siccome ho parlato della copertura finanziaria del collegamento stabile fra Sicilia e Italia non è il ponte se qualcuno mi individua un altro collegamento stabile fra Sicilia e Italia che non sia il ponte sullo stretto di Messina gli offro da bere quindi c'è la copertura economica integrale per il ponte sullo stretto di Messina che in termini tecnici lo chiarisco a qualcuno è il ponte e stamattina la giunta regionale siciliana ha stanziato il primo miliardo di euro quindi stiamo parlando di un cantiere che ho tutta l'intenzione di aprire nell'estate 2024 che si va a sommare a decine di cantieri da nord a sud che stiamo recuperando quindi occupandoci di questo spero che le manifestazioni siano sempre pacifiche e democratiche e per quello che riguarda la giudice apostolico non ho altro da aggiungere rispetto a quello che ahimè questo è sempre occupante emerge giorno dopo giorno non per nostre informazioni ma perché uno legge il giornale la mattina si domanda chissà cosa è successo oggi intorno al lavoro e alla famiglia del giudice apostolico non mi appassiona spero che arrivi prima possibile alla riforma giustizia a prescindere dal figlio della giudice da chi va in motorino con o senza casco o da chi va in manifestazione dove si insultano i poliziotti l'Italia ha bisogno di una riforma giustizia che non è oggetto della manovra di bilancia ma che è quanto mai urgente se le manifestazioni sono pacifiche non ravviso la necessità di vietare le manifestazioni altro paio di maniche è se si inneggia alla violenza all'odio al terrorismo all'antisemitismo quello ovviamente deve essere vietato per legge sì c'è un cap mi dispiace ho visto dispiaciuto non so se pensavo a qualche caso passiamo a Enrico Marro del Corriere della Sera sì buongiorno una domanda per il Ministro Giorgetti allora se ho capito bene l'anno prossimo non ci sarà più quota 103 non ci sarà più opzione donna se può spiegarci nella maniera più comprensibile la cosa saranno sostituite grazie per quanto riguarda opzione donna entrerà in una nuova forma che sostituisce opzione donna e ape esistenti che è flessibilità in uscita per quanto riguarda quota 103 abbiamo alzato i requisiti dell'età anagrafica fermo restando i 41 anni di contributi per quanto riguarda cedere alla pensione lo so lo so allora quando voi chiedete diciamo così serietà e serietà appunto l'ho detta ma si può parlare di quota 104 c'è una modifica c'è una modifica c'è una modifica sì non c'è una modifica c'è la modifica del requisito e non delle finestre non è quota ho detto che non è quota 104 piena perché c'è un meccanismo di tra virgolette incentivi a permanere al lavoro la logica tra virgolette norma Marvoni dell'anno scorso è una penalizzazione per quelli in qualche modo che decidono di andare in pensione Simone Canettieri del Foglio Salve buongiorno due domande per il ministro Salvini la prima è da leader della Lega quindi quale sarà la posizione della Lega quando il MES andrà in Parlamento prima ne ha parlato Giorgetti e ha detto il Parlamento sarà sovrano quindi le chiedo quale sarà la posizione dei suoi parlamentari e poi un'altra che guarda un po' all'Europa alla luce anche delle elezioni in Polonia le vorrei chiedere se teme visto che il programma diciamo di Giorgia Meloni dei conservatori sembra perdere quota se teme che Fratelli d'Italia e nello specifico diciamo la leader Meloni possa sostenere un governo diciamo una commissione Ursula Bis grazie nessun timore in questo senso e come voteremo sul MES lo vedrete se e quando voteremo sul MES passiamo a Giuseppe Fonte di Reuters Salve Ministro volevo un attimo tornare sulle privatizzazioni ritiene che la privatizzazione del Monte dei Paschi si possa chiudere entro il 2024 come ITA poi velocissimo un'altra domanda se nella manovra è uno dei decreti che accompagnano la manovra ci sono misure sui crediti deteriorati in particolare le norme di cui si è parlato che favoriscono che aiutano i debitori a ricomprare i crediti deteriorati grazie ci sarebbero ultime due domande se ce la facciamo se no chiudiamo qua allora Elena Saltarelli di prima pagina Elisa Buongiorno la domanda per il Ministro Giorgetti allora il Presidente Meloni ha parlato di 3 miliardi in più per la sanità che vanno a concentrarsi sull'abbattimento delle liste d'attesa volevo sapere se ci sono delle voci di spesa che intervengono sul comparto universitario mi spiego meglio sulla formazione dei giovani laureanti in medicina e chirurgia quindi se c'è un allargamento del numero chiuso se c'è un adeguamento della retribuzione dei medici specializzanti che sono i minori e sono pagati diciamo nella maniera peggiore rispetto agli altri europei e poi se avete previsto una voce di spesa per l'assunzione di nuovi medici visto che ne mancano solo gli ospedalieri sono 30.000 quelli che mancano e 70.000 infermieri grazie a una parte di queste domande ovviamente può rispondere e potrà rispondere più agevolmente il ministro competente noi abbiamo messo a disposizione 3 miliardi più ribadisco circa altri 300 milioni che sono relativi a regione Sicilia per fare una politica di personale il reclutamento ahimè in qualche caso è impedito dal fatto che non ci sono proprio medici o infermieri da reclutare io ricordo anche gli infermieri perché parliamo sempre dei medici ma c'è anche questo problema quindi il discorso della formazione è propedeutico alla disponibilità di questi medici quindi quello che abbiamo fatto è uno sforzo importante per dare le adeguate leve al ministro Schillacci per agire esattamente a dare una risposta che in alcuni casi e anche per zone territoriali è molto diversificata e che appunto dovrebbe in qualche modo riuscire a canalizzare risorse aggiuntive per premiare appunto gli sforzi in maggiore di personale e di maggiore orario lavorativo per fare in qualche modo declinare il numero delle attese che in qualche momento in qualche modo abbiamo ereditato e che ci sono e che sono anche un po' frutto un po' dell'età post-covid andiamo con Giacomo Salvini del Fatto Quotidiano buongiorno ministro tre domande velocissime la prima è che cosa succede adesso al super bonus qualcuno oggi diceva che nella manovra saranno eliminati gli sconti in fattura la cedibilità per chi ha già avviato i lavori e visto anche che Forza Italia ha chiesto a più riprese di prorogare almeno il super bonus per i condomini poi volevo chiedere se c'è in una di questi in manovra o in uno di questi decreti che avete approvato oggi qualche forma di pace fiscale visto che il ministro Salvini l'aveva chiesto e se ci può dire precisamente quanti soldi sono stati stanziati per il ponte sullo stretto grazie allora per quanto riguarda la prima la prima vicenda lo sconto di fattura non l'abbiamo già abolito da febbraio ciò nonostante la dinamica del super bonus continua imperterrita a ritmo di 3 miliardi di maggiore spesa all'anno quindi noi non abbiamo fatto nessun intervento in legge di bilancio su questo i lavori devono essere evidentemente completati entro la fine dell'anno se si vuole beneficiare lo sconto di fattura se no parte un meccanismo che è quello delle detrazioni senza la possibilità dello sconto in fattura o della cessione fatto salvo quelli ovviamente maturati in precedenza per quanto riguarda pace fiscale no per quanto riguarda invece il ponte sullo stretto ovviamente come tutte le opere pubbliche finanziato per l'intero montare che sono 12 miliardi nella proiezione pluriennale dei tempi necessari per realizzare l'opera quindi sono stanziati nell'orizzonte temporale dei primi tre anni le prime tre quote a salire perché ovviamente la dinamica dei lavori si prevede in qualche modo come peraltro le spese del PNR ecco nessuno mi ha fatto la domanda su questo sono tutte pienamente ricomprese naturalmente la collocazione temporale delle medesime risente della tempistica che noi prevediamo realisticamente si possano dispiegare e quindi sono prevalentemente concentrate nel 25-26 grazie buon lavoro il consiglio dei ministri era in corso funziona sì stavo dicendo che c'era un dossier che mi riguardava su cui mi ero impegnato però essendo qua l'illustrazione fatta il collega Mantovano per la prima volta nella storia della Repubblica oggi il consiglio dei ministri ha deciso ricorso alla Corte Europea di Strasburgo contro i divieti imposti uniliteralmente dal Brennero dal governo austriaco e quindi con oggi parte un ITER che non ha precedenti su cui coinvolgeremo anche altri paesi però la qualità della vita dell'aria i polmoni dei cittadini italiani e il diritto al lavoro dei cittadini italiani non sono di meno rispetto a quello dei colleghi austriaci c'è l'intera copertura del costo dell'opera fino a 12 miliardi oggi la giunta regionale siciliana ha stanziato il suo primo miliardo perché Regione Calabria e Regione Sicilia ovviamente daranno il loro contributo avremo interruzioni con la BEI però si parte grazie quando torni a presto